Arriva dalla Svezia la nuova tendenza sportiva che oltre a migliorare la forma fisica fa bene anche all'ambiente. Si chiama plogging e conta già migliaia di appassionati in tutto il mondo. Si tratta in sostanza di raccogliere rifiuti mentre si corre. Basta poco per iniziare, un sacchetto per la raccolta, un paio di guanti di protezione e ovviamente la voglia di correre. L'idea è venuta nel 2016 a un appassionato podista svedese, Erik Holström. Plogga, che in svedese si dice plokka, significa raccogli e corri. È una parola combinata, formata da due parole messe insieme, raccogli e corri. Erik, stanco di vedere le strade di Stoccolma piene di carte, mozziconi di sigarette e bottigliette di plastica gettate a terra, ha deciso di raccogliere i rifiuti mentre si allenava e di condividere quanto faceva sui social network. I suoi video si sono diffusi velocemente e il plogging ha trovato adepti ovunque. Il record mondiale è stato realizzato a Città del Messico, dove 4.000 persone hanno fatto plogging in un solo giorno, ma io credo che circa 10.000 persone lo pratichino regolarmente ogni giorno in India, dove la nuova tendenza del running è proprio il plogging. La parola d'ordine quando si fa plogging è anche condivisione. È infatti quasi un obbligo postare sui social foto e video utilizzando hashtag precisi per raggiungere più persone possibili. Il plogging è un mix tra educazione fisica ed educazione civica e di sicuro fa stare bene anche senza prestazioni sportive da record.